Investire in Polygon Matic nel 2023, sì o no? Si tratta di una delle cripto che ha retto meglio il bear market finora e nel 2023 sono in arrivo tantissimi sviluppi interessanti. In questo video li vediamo e analizziamo tutti cercando di capire come potrebbero influire sul valore di Matic analizzando per essere obiettivi sia il bull case che il bear case. Come abbiamo fatto la scorsa volta per Ethereum partiamo ricordando le cosiddette economics ovvero tutti quei fattori che vanno a influire su domanda e offerta dell'asset ovvero direttamente sul suo valore. A seguire analizziamo i suoi fondamentali on-chain, come si posiziona rispetto ai competitor, la sua roadmap e le proiezioni per il 2023. Tenetevi forte perché ci sarà un bel po' di materiale, seguitemi! Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Partiamo come diritto con la domandozza, ovvero voi cosa ne pensate di Polygon Matic come investimento per il 2023? Pensate che possa crescere il suo valore oppure no? Fatemelo sapere, mi raccomando, nei commenti con motivazioni così ci confrontiamo tutti insieme. Inoltre vi chiedo anche quali altri asset vorreste vedere analizzati in questa serie dopo Ethereum e Polygon oggi e così appunto la continuiamo anche secondo i vostri feedback. Polygon ad esempio me lo avete chiesto voi e se vi siete persi tra l'altro la puntata su Ethereum vi consiglio di recuperarla perché ne vale assolutamente la pena. Che dire amici, solito disclaimer per iniziare questo video non è da intendersi come consiglio finanziario e è semplicemente appunto un'analisi dati alla mano per essere il più obiettivo possibile tra l'altro facciamo sia il bull case che il bear case per cercare di capire cosa aspettarsi da Polygon nel 2023 soprattutto da un punto di vista di sviluppo, adozione, roadmap, partnership tutto ciò che può influire ovviamente sulla crescita oppure no del suo ecosistema in un ambito in cui ci sono sempre più competitor e sempre più agguerriti. Iniziamo come di rigore con un'analisi come dicevamo delle economics di Polygon ovvero quei fattori che influenzano la sua domanda e la sua offerta e in ultima analisi quindi il suo valore. Come vedete da questo grafico di lungo termine ha tenuto molto bene il bear market del 2022 se pensate a come hanno reagito in media le altcoin che hanno perso il 90 e passa per cento del loro valore Polygon sicuramente è una di quelle che appunto si è comportata meglio ma come mai? Cos'è che ha tenuto botta così tanto? Che ha generato così tanta domanda? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro e ricordarci proprio le basi ovvero che cos'è Polygon Polygon è una soluzione di scalabilità è una chain in realtà indipendente cioè viene definita spesso un layer 2 ma diciamo che è più una side chain di Ethereum perché ha il suo set di validatori ha il suo consenso proof of stake e il discorso del layer 2 di solito lo si tira in ballo perché ogni tanto in particolare ogni 30 minuti viene eseguito un checkpoint su Ethereum tuttavia un layer 2 puro tra virgolette dovrebbe essere un layer 2 che si appoggi interamente al consenso, alla decentralizzazione, alla sicurezza di Ethereum in questo caso possiamo chiamarla una soluzione ibrida passatemi il termine forse poco tecnico ma ha il senso un po' quello perché di fatto Polygon è una chain indipendente con il suo, ripeto, set di validatori e il suo consenso di tipo proof of stake l'obiettivo è la scalabilità quindi portare una quantità di transazioni più alta nell'unità di tempo con commissioni gas fees decisamente più basse motivo per cui la sua popolarità è cresciuta tantissimo nel periodo in cui Ethereum ha sofferto molto della sua mancata scalabilità c'è stata una migrazione non da poco appunto da Ethereum a Polygon Polygon non è da vedere al 100% come un competitor di Ethereum perché ricordiamoci che Primo lavora sempre nel mondo EVM quindi una crescita di adozione di Polygon significa anche una crescita dell'intero ecosistema Ethereum e in secondo luogo come dicevamo ogni tanto fa checkpointing proprio su Ethereum quindi sono molto molto a stretto contatto il tokenmatic, la coinmatic di fatto ha il ruolo di gascoin ovvero la spendi per pagare le transazioni su Polygon esattamente come ETH, come Ether su Ethereum ovvero tu se vuoi trasferire un token se vuoi creare uno smart contract se vuoi interagire con uno smart contract su Polygon devi pagare le gas fee in Matic a differenza di Ethereum le gas fee su Polygon sono molto 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 basse quindi ti serve una quantità molto minore di Matic al fine di utilizzare la chain e questo se da un lato è un aspetto molto positivo per l'usabilità della chain che è molto meno proibitiva di Ethereum dall'altro ovviamente va leggermente a decrementare la domanda perché capite bene che se basta un dollaro di Matic per fare mille transazioni allora non è che uno ne sta ad acquistare mille dollari ok? giusto per parlare in termini molto molto semplici un secondo caso d'uso è lo staking come abbiamo detto in quanto Polygon è una blockchain proof of stake delegated proof of stake nello specifico e per metterla in sicurezza ovviamente si affida allo staking ovvero il vincolare le proprie coin sullo staking contract che è uno smart contract dedicato che va a distribuire ricompense agli staker in cambio appunto del loro stake di fatto del loro ammontare di coin che vengono vincolate al fine di partecipare all'algoritmo di consenso qui non stiamo a specificare troppo sull'algoritmo di consenso perché poi c'è un video dedicato al proof of stake di mezz'ora se vi interessa approfondirne il funzionamento come parte del nostro corso base inoltre importantissimo per le economics di Matic ultimo punto fondamentale è stato introdotto nello specifico a gennaio 2022 il burn dei Matic esattamente come avviene su Ethereum hanno replicato alla stessa maniera l'IP 1559 ovvero una parte delle gas fee che vengono spese per fare transazioni su Polygon vengono distrutte, vengono bruciate questo ha di fatto introdotto un revenue per il protocollo per quale ragione? perché di fatto una parte di queste gas fee che vengono bruciate, vengono tolte dal circolante e di fatto è come se gli holder beneficiassero della riduzione della supply infatti più tardi andremo ad analizzare meglio questo parametro che è proprio la revenue del protocollo Polygon come vedete proprio a partire dal 18 di gennaio che è stato il giorno in cui è entrato in vigore l'IP 1559 su Polygon abbiamo un inizio di revenue che è proporzionale alle gas fee spese e quindi in secondo ordine proporzionale al numero di transazioni eseguite all'interno della chain ecco che iniziamo a mettere insieme i puntini per quanto riguarda ciò che va a sostenere il valore del token è utile quando abbiamo della produttività dei parametri di questo tipo perché da un lato c'è l'inflazione ovvero quante emissioni ci sono e tra poco lo andiamo a vedere del token che va a generare l'offerta dall'altro abbiamo un sistema di generazione di valore che abbiamo capito è proporzionale all'attività sulla chain che cos'è che va a generare attività sulla chain? il numero di utenti il numero di transazioni il numero di applicazioni casi d'uso e insomma la crescita dell'ecosistema stesso e questo è un po' il quadro generale che dobbiamo andare ad analizzare per il mondo Polygon per capire appunto le sue prospettive poi per quest'anno facciamo una piccola parentesi di nuovo sul burn perché come abbiamo detto all'inizio per riguardo alla domanda per la detenzione di Matic per l'utilizzo del network essendo le gas fee estremamente basse di nuovo anche il burn è minore se tu su Ethereum dovevi spendere 80 dollari ai tempi d'oro per fare uno swap su un DEX su Matic bastano 2 centesimi di dollaro chiaramente il burn è inferiore e quindi ci vogliono molte più transazioni per avere un burn paragonabile a quello di Ethereum e questo è il motivo per cui se noi andiamo a paragonare solitamente le earnings cioè la revenue di fatto delle varie chain aspettate che ve lo mostro vedete abbiamo sempre Ethereum come chain assolutamente dominante per fare un paragone vedete Ethereum ha una revenue negli ultimi 180 giorni di 412 milioni di dollari mentre Polygon si trova qua con 3 milioni di dollari questo non è a causa di una minore attività perché come vedremo tra poco c'è una maggior attività su Polygon ma è a causa del costo nettamente inferiore delle transazioni quindi bisogna mettere insieme una moltitudine di fattori a un'analisi non banale andiamo dall'altro lato della medaglia quindi ad analizzare l'offerta ciò che potrebbe diluire ridurre il valore di Polygon oltre ovviamente a un andamento negativo della crescita dell'ecosistema perché se l'ecosistema dovesse contrarsi meno utenti, meno transazioni eccetera la revenue si contrae e allo stesso modo la domanda si contrae perché meno utenti ed entità sono interessate ad acquistare e detenere Matic è un po' il solito discorso il valore è molto direttamente proporzionale alla crescita e all'utilizzo dell'ecosistema torniamo come vi dicevo all'offerta guardate io spesso e volentieri mi rifarò a questo report che è stato scritto dai nostri formatori Massimiliano e Matteo in occasione di un approfondimento che avevano fatto sul nostro server Discord ve lo lascio tra l'altro linkato in descrizione è gratuito a una pagina del nostro sito web 20 minuti di lettura è un super riassunto di vari dati dal punto di vista torniamo invece a noi della supply quindi della offerta abbiamo una buona notizia ovvero gli unlock dedicati al team e alla foundation sono finiti il circolante massimo di Matic è di 10 miliardi di unità e come vedete adesso siamo a 8.73 miliardi già circolanti eccolo qua scusate il grafico vedete degli unlock è terminato con l'ultimo unlock che c'è stato ad agosto guardate si vede molto bene da qui dove siamo passati da 8 miliardi di circolante a 8.7 miliardi di circolante un bel salto infatti se vedete quanto la supply è aumentata nell'ultimo anno abbiamo un'inflazione del 17% la buona notizia è che l'inflazione adesso si ridurrà notevolmente perché è data soltanto dalle emissioni dovute allo staking tutto il resto vedete advisor, foundation, ecosystem, team eccetera è già stato sbloccato questa curva ancora crescente fino si stima al 2024-2025 è lo staking rewards l'emissione dovuta a staking rewards al fine di mantenere la appetibilità proprio per i validatori per partecipare al processo di staking questa è stata la distribuzione iniziale ma è più interessante andare a vedere la distribuzione attuale del token MATIC come vedete in buona parte è in staking in parte è sul plasma bridge che è quell'infrastruttura necessaria proprio per la comunicazione con Ethereum interessante invece vedere quanto è ancora in tasca alla foundation abbiamo all'incirca un 10% c'è il portafoglio dedicato all'ecosystem growth e alla foundation come mai è interessante? beh perché per definizione queste entità vendono in quanto hanno bisogno di liquidità per sostenere le operazioni di marketing di sviluppo, di crescita dell'ecosistema e del team interno e di conseguenza sono fleggabili come sellers quindi meno il loro impatto è marcato e meglio è da un punto di vista di bilanciamento domanda e offerta tuttavia non sono mai stati dei dampatori seriali perché se si va a vedere diciamo la loro supply nel tempo non hanno appunto fatto mai delle svendite marcate al contrario magari di altre chain come Algorand per citarne una che invece tendono a vendere molto di più laddove necessario ecco Polygon non lo ha mai fatto e questo poi si è sempre rispecchiato positivamente sul prezzo il prezzo tiene molto conto di queste cose perché chiaramente se qualcuno continua a svendere 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 va a sopprimere qualsiasi focolaio di domanda questo è molto importante e chiaramente non è che sono svendite inutili perché senza queste svendite e senza la raccolta di liquidità per la foundation e per l'ecosistema non lo fai crescere quindi è ovviamente importante però bisogna bilanciare bene queste spese al fine di non svalutare troppo il token in questione e questo è quanto quindi è una panoramica di tutta l'economics quindi adesso direi che possiamo riconcentrarci nuovamente sulla domanda quindi sui casi d'uso e andare a fare lo step successivo ovvero quali sono i casi d'uso di Polygon come stanno variando nel tempo stanno crescendo c'è prospettiva di espansione o prospettiva di contrazione visto che ciò abbiamo visto va a impattare in maniera diretta sul valore di Matic ecco che andiamo a guardarci i casi d'uso di Polygon sono praticamente i medesimi di Ethereum d'altronde sono diciamo due chain finalizzate proprio alla creazione implementazione e utilizzo di smart contract ed app in particolare guardiamo proprio gli utenti Polygon e le tipologie di transazioni quelle che insomma sono state più numerose di fatto abbiamo all time quindi guardiamo sempre dall'inizio ad ora il MEV che è un termine tecnico che magari spiegheremo in futuro ma ha a che fare con la produzione di blocchi Chainlink quindi infrastruttura OpenSea QuickSwap PegX vedete questi sono progetti NFT soprattutto legati al settore gaming e anche in termini di utenti abbiamo vedete Center Tether quindi Stablecoin WETH quindi gli Ether brigiati spostati wrappati su Polygon QuickSwap quindi DeFi Benji Bananas è un progetto NFT MakerDAO quindi DeFi Binance che ovviamente va a fare tantissime transazioni on chain per movimenti prelievi depositi e così via Metamask eccetera quindi possiamo dire che gli utenti principali sono e gli utilizzi principali sono DeFi NFT stablecoin quindi pagamenti in generale e di fatto questo è ciò che domina quindi andiamo a vederli uno a uno esattamente come abbiamo fatto per Ethereum come sono andati nel tempo ho trovato un report molto interessante redatto proprio da Polygon una decina di giorni fa con le sue statistiche per il 2022 e sono molto interessanti perché mostrano innanzitutto l'andamento dei dati on chain quindi numero di active wallet e come vedete è cresciuto è quasi raddoppiato nell'anno 2022 che ricordiamoci è uno dei peggiori anni no? dell'ultima decade per le cripto poi vedete DeFi and Gaming Ecosystem Active Wallet la DeFi nell'ultima metà del 2022 quindi con l'esacerbarsi del bear market si è un po' andata a prosciugare ma al contrario il settore gaming e il settore NFT in generale come vedremo tra poco con altri dati utili è cresciuto parecchio arrivando a a doppiare se non di più i wallet DeFi vedete che qua fanno alcuni nomi come Benji Bananas di Animoca Brands Quick Swap che chiaramente è uno dei DEX principali dell'ecosistema Polygon Hop Protocol un altro ecosistema un altro protocollo cross-chain con bridge e DEX One Inch Uniswap V3 che è migrato su Polygon e ha fatto nettamente la differenza e qua potete vedere un po' un panorama se vi interessa delle principali DAP con numero di transazioni e address unici e la differenza guardate anche questo molto interessante rispetto al 2021 quindi numero di transazioni ad esempio su Quick Swap One Inch poi cos'altro abbiamo Kyber Swap Uniswap ovvero DeFi alcuni sono diminuite alcune sono aumentate chiaramente perché Uniswap non c'era l'anno precedente Quick Swap ha perso un po' ma verosimilmente perché Uniswap li ha portato via il volume Sushi Swap uguale ha risentito dell'arrivo di Uniswap ma generalmente possiamo vedere che soprattutto grazie all'arrivo di Uniswap V3 sono incrementati notevolmente gli utenti anche nel settore DeFi i volumi sono invece diminuiti dall'altro punto di vista lato gaming ed NFT c'è stato un notevole salto di volumi anche utenti tutti i parametri sono aumentati notevolmente su Polygon come vedremo tra poco questo soprattutto grazie in parte appunto a dei game sviluppati e molto più usabili rispetto a Ethereum proprio per l'alta scalabilità ma in parte anche grazie alle partnership strette con vari attori anche off chain come Reddit per dirne una la partnership con Reddit ha creato un boom del mercato NFT su Polygon ed è molto interessante da esaminare qua di nuovo ci sono alcuni dati ecco lato NFT vedete gli NFT non finanziari vengono chiamati sono soprattutto inerenti al mondo del gaming e quindi questo punto è interessante soprattutto andare proprio a vedere lo sviluppo la crescita del settore gaming on chain web3 gaming e simili perché una sua crescita molto probabilmente può impattare positivamente anche sulla crescita di Polygon perché molti di questi game coloro che puntano al panorama EVM vanno a finire direttamente su Polygon andiamo a vedere qualche altro dato interessante guardate qui ci sono i daily il numero di daily address attivi address giornalieri attivi guardate questo spike in ottobre sapete cosa è successo in ottobre ripeto Reddit ha lanciato i suoi avatar NFT e li ha lanciati proprio su Polygon questo ha generato un boom di attività un boom di nuovi address attivi proprio perché tantissimi utenti Reddit hanno partecipato in qualche modo e tali questa iniziativa insomma ha sempre mantenuto vivo anche il traffico proprio di NFT all'interno della chain quindi compartecipando a generare fee a generare transazioni guardate infatti di nuovo da ottobre il numero di transazioni il numero di cioè la quantità di gas soprattutto la vediamo in azzurro ha avuto uno spike non da poco perché è incrementato il traffico del network vedete e questo di nuovo grazie anche all'inclusione degli NFT di Reddit sulla chain Polygon l'andamento delle transazioni vedete è rimasto abbastanza costante per tutto il 2022 ha avuto un trend di crescita vedete a partire di nuovo da ottobre sempre complici gli NFT di Reddit fino all'anno 2023 vedete ha recuperato un po' ma la sua costanza diciamo è sicuramente un lato positivo perché una costanza dell'impiego del network in un periodo di bear market molto marcato è un dato positivo ok significa che comunque la chain viene utilizzata abbiamo visto poco fa anche il scusate che ho cancellato la revenue di Polygon stessa che come abbiamo visto dipende fortemente dal numero di transazioni aspettate che ve la vado a recuperare perché al momento l'ho persa scusatemi vado a riprenderla Polygon perché di fatto questo è molto utile per capire revenue ecco così se vi interessa sapete anche voi come andarla a recuperare max vedete che abbiamo una revenue un po' saltellante perché comunque ci sono ripeto delle gas fee molto molto basse e vedete che è in crescita proprio nell'ultimo periodo di nuovo da ottobre c'è stata un'esplosione dovuta proprio al traffico maggiore che si è generato a causa degli NFT di Reddit e poi è in crescita organica adesso con il 2023 che c'è una maggiore attività in generale c'è un po' di ritorno di interesse dopo il forte sconforto della seconda metà del 2022 andiamo a vedere un po' di dati questo perché ve lo sto dicendo perché di nuovo maggiore è questo traffico maggiore è la domanda per Matic maggiore sono i Matic burnati e di conseguenza la revenue del protocollo e avere dell'utile del valore avere un asset produttivo sicuramente aiuta andiamo a dare un'occhiata adesso all'ecosistema DeFi invece con l'aiuto di DeFi Lama in particolare mi interessa andare a vedere i volumi sui DEX andiamolo a vedere per chain guardate Polygon è al quarto posto ma proviamo a ordinarlo ad esempio per volume su 7 giorni vedete al terzo posto abbiamo 1.28 miliardi di dollari di volumi sui DEX di Polygon per riferimento sopra Polygon abbiamo soltanto BSC con 1.7 e chiaramente Ethereum che ha sempre un ruolo fortemente dominante se andiamo a esplodere la chain e andiamo a vedere quali DEX generano volumi come voleva si dimostrare dominante Uniswap che genera quasi un miliardo ogni 7 giorni è molto piccolo rispetto alla quantità su Ethereum perché comunque la DeFi è ancora utilizzata soprattutto su Ethereum vuoi perché è la chain più sicura nell'ambito DeFi e vuoi perché comunque quella con la liquidità maggiore di conseguenza è la più utilizzata in ogni caso guardiamo anche l'andamento abbiamo un 2021 ovviamente molto spinto perché eravamo in pieno bull market 2022 calante fino appunto all'inverno che è stato un po' la zona di bottom poi c'è stato una fase di spike di nuovo calante e col 2023 abbiamo una leggera ripresa comunque sono dati diciamo non particolarmente voluminosi quelli della DeFi possiamo affermare con certezza che i casi d'uso principali per la chain polygon riguardano soprattutto gli NFT a proposito di NFT andiamo a vedere un po' di dati interessanti guardate di nuovo abbiamo avuto la nostra bolla che ha avuto il picco a inizio 2022 poi iniziato il bear market fase di minimo e con l'inizio dell'anno vedete che abbiamo un inizio di ripresa questi sono i volumi sui marketplace e dei mint quindi open see vedete sono i volumi banalmente sul marketplace open see che detiene la quasi totalità del traffico su polygon stesso e i mint sono le generazioni di nuovi NFT qua invece possiamo andare a vedere le vendite di nuovo cerchiamo di avere una panoramica più completa e abbiamo un recupero all'inizio cioè fine anno inizio 2023 numero di wallet mi aspetto un dato molto simile perché comunque sono dati fortemente correlati adesso appena me lo carica lo andiamo a vedere numero di compratori guardate questo è negli ultimi 90 giorni c'è un incremento notevole di compratori di ritorno returning buyers e se andiamo ad aumentare la scala mi aspetto di vedere un trend simile ecco nel frattempo ci ha caricato anche il numero di wallet vedete fortemente in crescita nella seconda parte non nell'ultima parte anzi del 2022 barra inizio 2023 progetti attivi di nuovo andiamo a vedere uno zoom un po' più elevato mi sa che abbiamo sovraccaricato nansen ecco intanto vedete il numero di buyer anche lui incrementato notevolmente returning buyer cosa curiosa quindi molti molti ritornano c'è forte fidelizzazione ma questo ci mostra al di là di tutto in maniera oggettiva proprio dati alla mano che il trend degli nft guardate che roba progetti attivi comunque si è stabilizzato nonostante il bear market dopo un piccolo calo è molto interessante come dato perché mostra che c'è di fatto un'adozione che rimane ripeto una fidelizzazione della chain stessa quindi ripeto DeFi magari è un po' più diciamo orientata al mondo ethereum ma il mondo nft è fortemente attivo su polygon quindi ciò che va tenuto sotto controllo principalmente sono proprio le partnership in tal senso vi faccio un nome una curiosità no anche riguardante proprio il mondo nft su polygon che è un trend anche dell'ultimo periodo aspettate che vi vado a recuperare anche il dato di prima perché era interessante da vedere eccolo qua vedete numero di transazioni per entità negli ultimi sette giorni qui abbiamo lens protocol profiles lens protocol io vi consiglio di darci un'occhiata perché è un concept interessante di social network decentralizzato c'è un protocollo per la creazione di social network viene chiamato social graph dove fondamentalmente ogni azione follow post commento interazione profilo avatar è di fatto un nft on chain e chiaramente utilizzano polygon proprio per uno scopo di principalmente usabilità e di leggerezza da un punto di vista di costo anche di transazione quindi la crescita del settore secondo me sarà un trend il settore dei social non chain potrebbe interessare in prima persona polygon perché comunque polygon ha già questo lens protocol che potrebbe essere un'ottima base ma potrebbe appunto crescere in maniera anche importante quindi vale la pena così ve lo butto lì come come spunto di riflessione altra cosa le stable coin abbiamo detto che sono insomma un altro trend non da poco market cap delle stable coin abbiamo polygon al quinto posto vedete 1.77 miliardi quindi diciamo che probabilmente sono anche in modo molto correlato agli nft lo vedono chiaramente nelle top chain ma molto molto lontano da ethereum e anche da bsc che è la terza perché c'è anche tron effettivamente probabilmente perché tutti usano usdt su tron ormai è diventata un'abitudine vedete dominant usdt al 93% bsc ha il suo busd ovviamente che insomma lo aiuta a gonfiare questo parametro ma comunque 4-5 volte quasi la market cap di polygon quindi da quel punto di vista lì polygon forse un po' indietro rispetto alle chain dominanti vi faccio vedere anche un altro dato curioso interessante che mostra i flussi di import export degli asset sulle chain e guardate polygon è curioso perché importa tanto 3.1 miliardi e sporta poco importa soprattutto da ethereum vedete top importers polygon è al terzo posto è una delle chain verso le quali vengono brigiati di fatto più asset questo è un po' il senso e questo è uno specchio poi del livello di utilizzo della chain stessa perché arrivano da ethereum gli asset e a reciventi soprattutto e simili e poi vengono impiegati sulla chain per i suoi casi d'uso mentre gli export sono inferiori 1.2 miliardi e si può anche analizzare vedete i flussi da dove arrivano e dove vanno a finire ethereum polygon soprattutto qui ti fa vedere anche tramite quali bridge e le esportazioni vanno soprattutto su aptos e axelar però in realtà sono minori credo che poi no in realtà 1.2 milioni di cui quasi no è vero quasi la totalità su aptos curioso non non me lo sarei aspettato vabbè questi sono dati ok quindi interessante vedere comunque anche questo mostra come polygon attragga capitale la revenue l'abbiamo vista adesso andiamo a dare un'occhiata partnership sviluppi e quant'altro che di nuovo ve le riprendo da questo articolo ma semplicemente perché sono già elencate guardate partnership 2022 2023 meta chiaramente è importante da seguire perché è un colosso e maggiore utility vuol dire maggiore domanda ricordiamocelo quindi il bilancio domanda offerte il burn delle transazioni altre partnership abbiamo draft kings betting casino online adobe starbucks l'nfl meta chiaramente walt disney reddit stripe nothing che produce smartphone quindi l'idea è anche simil solana di produrre uno smartphone che in qualche modo permetta di veicolare le dap robin hood il wallet non custodial di robin hood è creato su polygon nike adidas e prada quindi il mondo del fashion e ebay ha fatto uscire i suoi nft partnership on chain magic eden interessante perché è un è il marketplace più grande di solana che è uscito anche su polygon per ora è poco adottato ma potrebbe esserci chiaramente una crescita magic eden è il primo interessato a ciò axelar cross chain come abbiamo visto prima è uno dei tramiti per l'export degli asset chain link è l'oracolo ovviamente più importante al mondo chain stack infrastrutture blockchain ozis prodotti blockchain di nuovo sul lato sviluppo e infrastruttura e poi come vi ho mostrato anche il lens protocol secondo me vale la pena andarlo a seguire sviluppi tecnologici allora di sviluppi ne abbiamo parecchio qui vado veloce perché poi se li volete leggere adesso non volevo andare troppo nel tecnico ma potete andare appunto a visionare l'ultima parte di questo report abbiamo avuto recentemente un hard fork non so se l'avete seguito il 17 di gennaio che fondamentalmente aveva come scopo ridurre gli spike di gas no? quindi vedete prima ci sono questi spike dopo lui fa dei calcoli per ottimizzare il costo del gas nel tempo quindi avendo meno volatilità anche sul prezzo delle transazioni e inoltre ridurre il tempo di finalità di una transazione che vuol dire il tempo dopo il quale quella transazione viene data per buona come si fa? si fa riducendo il tempo si chiama di sprint length da 64 a 16 blocchi ovvero il numero di blocchi consecutivi che può avere un validatore riducendolo diciamo è più difficile andare a falsificare la chain per un singolo validatore quindi si può dire che una transazione è valida già da prima un altro aggiornamento è la cosiddetta parallelizzazione che è un'altra eredità di Solana che lo fa con C-Level si chiama è la sua feature tecnica che gli permette ciò non si fa più tutto in serie vedete ma si parallelizza e questo aumenta il throughput ovvero le transazioni nel secondo poi in sviluppo c'è Edge un framework modulare la modularità è un tema molto importante per costruire blockchain quindi tramite questo framework di fatto si può costruire delle altre chain che girano intorno a Polygon vuole fare un po' quello che fa Cosmos sotto un certo punto di vista non solo Polygon ma anche vedete Supernet è un'altra cosa che va in questa direzione sempre della modularità ovvero si sviluppano delle chain application quindi delle chain estremamente specifiche ripeto come Cosmos dove abbiamo una chain che fa una cosa specifica e Cosmos Hub al centro come anche le paracain di Polkadot o le subnet di Avalanche sono un altro esempio e di fatto tu hai già la sicurezza hai già i validatori e devi fare meno operazioni per lanciare questa chain le chain potranno essere sviluppate anche come layer 2 utilizzando le ZK Rollup nel momento in cui ci sarà anche ZK EVM ZK EVM per l'appunto che adesso è in arrivo ce ne sono varie versioni in arrivo c'è Hermes che in realtà è utilizzata molto poco è un Rollup già disponibile ma poi ci sarà la ZK EVM full compatibilità che è quello che è un po' il prossimo diciamo la prossima frontiera della scalabilità di Ethereum questi sono i veri i veri layer 2 ecco nel Q3 2023 dovrebbero esserci ulteriori sviluppi soprattutto sarà interessante vedere il ruolo del token Matic all'interno di tutto ciò layer 2 ce ne sono di vari tipi Zero Maiden e Nightfall se li volete approfondire hanno tutte delle peculiarità tecniche Avail di nuovo a che fare con la modularità per capire il senso della modularità vedete si oppone alle chain monolitiche che fanno tutto ma vedete ci sono degli specifici scopi espletati da diverse chain o non chain anche nel caso e più si sgrava ovviamente la chain monolitica e meglio è lato efficienza infine l'identità Polygon ID identità digitale cosa che ha a che fare anche col mondo ovviamente dei social decentralizzati come abbiamo visto questo quindi è un po' tutto il punto tutto il macro che ha a che vedere con lo sviluppo di Polygon nel 2023 quindi tirando le somme il bull case praticamente abbiamo capito che è la crescita delle partnership crescita degli sviluppi crescita di transazioni crescita quindi di revenue di gas fispese e così via quindi più cresce l'ecosistema più utenti ci sono e più il valore della chain quindi al netto della speculazione poi il prezzo lo sapete bene che a volte parte per la tangente causa speculazione ma il valore aumenta allo stesso modo il valore diminuisce se l'adozione diminuisce quindi questo è un periodo molto agguerrito per i competitor dei layer 1 e dei layer 2 questa è un po' una via di mezzo ma alla fine si può forse andare a porre anche se indirettamente come competitor sia dei layer 2 di Ethereum come Arbitrum Optimism o le altre ZK e WM che arriveranno competitor di Matic di Polygon che ovviamente combatteranno un po' per essere utilizzate l'una anziché l'altra e volendo anche i layer 1 come Solana BSC e Kronos perché di fatto sono sempre dei layer 1 indipendenti dagli altri che cercano di attrarre traffico a sé e quindi c'è un po' questo combattimento per chi ha più partner chi ha più casi d'uso e chi ha più utenti e come abbiamo visto in alcuni vince Polygon in altri no nelle stablecoin nella DeFi vince ancora BSC chiaramente Ethereum è un po' un caso a parte perché è un po' la mamma di tutte però tra le altre c'è competizione quindi qui sì che un po' di competizione è in ballo e vale la pena tenere sotto controllo sempre questi dati per capire come sta andando un'ultima cosa ma importantissima è una critica che è stata espressa nei confronti di Polygon in particolare della sua centralizzazione e sicurezza infatti Polygon è scritto bene in questo articolo e si basa su un tweet che ha mostrato alcune debolezze di Polygon stesso di fatto Polygon è governato da un multisig 5 di 8 che ha le admin keys ovvero le chiavi che hanno in mano il controllo della chain che quindi possono decidere di censurare modificare eventualmente anche fare rag bull non dovrebbe essere nel loro interesse ma sappiamo bene che mai dire mai 5 di 8 vuol dire che deve esserci una collusione di 5 tra gli 8 holder delle chiavi del multisig e questo la rende fortemente centralizzata di fatto non si può definire molto decentralizzata no Polygon sia da questo punto di vista sia dal punto di vista dei validatori perché i validatori sono 100 e quindi insomma non è sicuramente un esempio lampante di decentralizzazione Polygon in risposta ha rilasciato un transparency report che adesso ve lo vado a recuperare perché va proprio a definire transparency multisig va proprio a rispondere a questa critica eccolo qua dove va a raccontare il perché del multisig no e quindi spiegano che è per andare a tutelare al momento la chain nel caso in cui ci dovessero essere problemi ci dovrebbero essere situazioni poco piacevoli dicono che è una pratica comune e che il loro obiettivo poi è di migrare nei confronti verso una DAO quindi governance timelock rimuovendo i multisig nel tempo per il momento ci sono vari multisig vedete uno per gli upgrade proof of stake plasma uno per il custom child rc20 contract upgrades e il mapping di questi contracts e sono cose tecniche ovviamente ma di fatto hanno il controllo di questi parametri di questi contract sono amministratori e qua ci sono alcuni dei facenti parte di questo multisig ma l'obiettivo è andare verso una maggior decentralizzazione ma al momento non ci siamo ancora ci tenevo a dirvi questa cosa perché è una delle maggiori critiche che vengono mosse nei confronti di poligon ovvero questo rischio e inoltre la scarsa decentralizzazione come sempre lascio a voi eventuali conclusioni eventuali come dire valutazioni io vi ho cercato di portare tutti i dati a disposizione nel modo più obiettivo possibile sia il bull case che il bear case e a questo punto ai posteri l'ardua sentenza amici vi faccio un carissimo saluto e alla prossima grazie Grazie.